ciao oggi voglio mostrarti un upgrade che ho realizzato per il mio frigo portatile l'ho trasformato a batteria a litio ma con una marcia in più ti spiego in italia è quasi impossibile trovare frigoriferi portatili a batterie si trovano solo costossissimi modelli provenienti dagli stati uniti fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile alloggiare una batteria su un frigo portatile grazie al peso e all'ingombro delle batterie al piombo oggi grazie alla potenza delle celle al litio e dalle ridotte dimensioni questo è diventato possibile oramai mi sto specializzando nella realizzazione di pacchi batteria a litio così ho pensato di trasformare un tradizionale frigo portatile ne ho scelto uno abbastanza capiente che funziona sia a 220 volt che con la 12 volt dell'auto il frigo consuma quasi 50 watt l'ora quindi sarebbe impossibile lasciarlo attaccato alla batteria dell'auto un'intera giornata si rischrebbe di non ripartire più con una batteria applicata al frigo non abbiamo più problemi di alimentazione e possiamo portare il frigo con noi ovunque ma quali sono i punti di forza di questo progetto in confronto ad un frigo portatile americano il mio pacco batterie e multiuso l'ho fatto facilmente rimovibile in modo da poterlo utilizzare anche per altri scopi non solo col frigo in estate poi essendo rimovibile se si dovesse rompere la cella termo isolante del nostro frigo portatile possiamo comprarne un altro anche un modello differente ed applicarci il pacco batteria il collegamento fra batteria e frigo avviene tramite spinotto accendistica di standard che troviamo su tutti i modelli di frigo portatili ho posizionato anche un interruttore e una doppia presa usb con funzione quick charge per poterci collegare qualsiasi dispositivo usb come l'ho realizzato per proteggere le celle al litio da eventuali colpi e dal sole vi ho costruito un involucro composto da alluminio e bacchelite per fissare la batteria al frigo ho utilizzato quattro rivetti filettati dove avvitare quattro piccoli buloncini la spinottiera l'ho progettata e stampata con la mia stampante 3d ho creato uno spazio di qualche millimetro fra il pacco batterie e la parete del frigo per facilitare la ventilazione questo pacco batterie ha la capacità di 12 volt 45 ampere poter il frigo acceso alla massima potenza per 12 ore nella parte bassa trova alloggiamento lo spinotto di ricarica ho volutamente lasciato a vista il lato interno del pacco batterie per poter vedere da cosa è composto ti piace questa modifica del frigo ti saluto ciao al prossimo video ciao